La guerra contro l'Austria-Ungheria che sotto l'alta guida di sua maestà il re Duce Supremo l'esercito italiano, inferiore per numero e per mezzi iniziò il 24 maggio 1915 e con fede incrollabile senace valore condusse in interrotta ed astrissima per 41 mesi e vinta la gigantesca battaglia ingaggiata il 24 dello scorso ottobre e dalla quale prendevano parte 51 divisioni italiane tre britanniche, due francesi ed una seco-slovacca ed un reggimento americano contro 63 divisioni austro-ungaliche è finita la fulminea arditissima avanzata del 29esimo corpo di armata su Trento barrando le vie della ritirata alle armate nemiche nel Trentino travolte all'Occidente dalle truppe della settima armata e ad oriente da quelle della prima, sesta e quarta ha determinato ieri lo spazio totale della fronte avversaria dal Trento al Torre l'irredistibile slancio della dodicesima, della ottava, della decima armata e delle divisioni di cavalleria ricatta sempre più indietro il nemico fuggente nella pianura, su Altezza Reale in Duca d'Aosta avanza rapidamente alla testa della sua indietta terza armata anelante di ritornare sulle posizioni da essa, già vittoriosamente conquistate e mai aveva perdute l'esercito austro-ongalico è annientato esso ha subito perdite gravissime nella canica resistenza dei primi giorni e nell'inseguimento ha perdute quantità ingentissime di materiali di ogni sorta e pressoché per intero i suoi magazzini e i depositi ha lasciato finora nelle nostre mani circa 300.000 prigionieri con interi stati maggiori e non meno di 5.000 uccanoni i resti di quello che fu uno dei più potenti eserciti del mondo risalgono in disordine e senza speranza le valli che avevano disceso con orgogliosa scurezza il capo di stato maggiore dell'esercito generale Dias grazie a tutti grazie a tutti